Bentornati su Nomo a Mammazzo e bentornati nella rubrica Fumetti, bentornati nella rubrica dedicata alla Bugs Comics. Ho avuto il piacere di leggere, di divorare in una sola giornata, complice a un viaggio in treno, sia Samuel Stern numero 43 che Kalia numero 8. Oggi ovviamente parliamo di Samuel Stern, ma volevo farvi notare prima che Kalia, dopo due mesi soli dall'atto di fiducia, ha aumentato i suoi prezzi a 4,90€. Non voglio fare polemica, lo dico solo per farvelo notare, perché sappiamo tutti perché ci sono gli aumenti sui fumetti di questo periodo, ne hanno parlato un sacco di persone, però volevo solo farvi notare che Kalia è aumentato, mentre Samuel Stern per ora tiene botta. Sarà l'ultimo numero 4,40? Lo sapremo dal mese prossimo. E bentornati, bentornati in Samuel Stern, ma soprattutto bentornati in questa trilogia di Gianmarco Fumasoli, che è stata anche scritta, a quanto ho letto, a quattro mani anche da Marco Saveniago, che si conclude con un nome molto corto, un titolo molto corto, molto fermo, nero, semplicemente nero. E c'è parecchio nero in questa storia, c'è questo liquame, questa poltiglia nera che abbiamo visto avvolgere gli indemoniati anche negli altri due numeri della trilogia, e che in questo numero più che in altri ricorda molto una controparte molto poltigliosa, molto fluida, molto nera anche dell'universo Marvel. Sto parlando di Venom, questo nero mi ha ricordato in alcune scene più che in altre, proprio questo villain della Marvel. E lo dico in senso positivo, cioè mi è piaciuto avere questo omaggio appunto al Venom marvelliano, soprattutto nella controparte Ultimate, dove vi ricordo che in realtà era un costume liquido creato per la cura del cancro, un costume che poi aveva perso il controllo. Ecco, c'è anche questo paragone anche in Samuel Stern, dato che i demoni, le ombre che nascono nell'anima umano sono una sorta di cancro dell'anima. Ecco, e quindi ho notato questo feel noir tra le due cose. Poi non so se è voluto oppure no, non so quanto siano fan dell'universo Ultimate della Marvel in Bugs Comics. Però ecco, ho apprezzato questa citazione ai fumetti americani. La storia appunto, come ho detto prima, è di Gianmarco Fumasoli, che come il James Gunn della Bugs Comics, oltre a gestire tutto, diciamo, il comparto di Samuel Stern, del Daryling, adesso abbiamo anche lo spin-off Singularity, ha fatto anche una sua trilogia, esattamente come James Gunn ha fatto con i Guardiani della Galassia. E questa trilogia è composta da tre numeri che hanno una veste grafica simile, una veste grafica che non può farvi sbagliare su dove pescarla nella vostra libreria. Sto parlando appunto del numero 26, Il Figlio e il Prodigo, il numero 39, Una Prigione di Carne, purtroppo non ho tre mani, mi dispiace, e aspettate che ci arrivo, è il numero 43 con nero. Ecco, guardateli tutti insieme come stanno bene, perfetto. Devo dire che dato che c'era stato l'aumento da 4 a 4,40 tra il numero 26 e il numero 39, sarebbe stato carino vedere anche l'aumento qua, così andava un po' a scalare, no? Ma sono io che sono compulsivo, non fatevi influenzare da questa cosa. Ho parlato degli autori, degli sceneggiatori di questa trilogia, ma vorrei parlare anche della disegnatrice di questa trilogia, che è appunto Giada Belviso, mentre negli altri numeri i disegni erano di Pier Antonio Bruno e di Daniele Miano, mentre qui abbiamo appunto Giada Belviso, che credo esordisca, correggetemi se sbaglio, nelle testate, quantomeno del Libraio di Edimburgo, non so se in generale nelle testate Vax, ma nel Libraio di Edimburgo, mi sembra appunto al suo esordio in Samuel Stern. Mi soffermo un attimo a parlare sui disegni che hanno una griglia molto classica, ma allo stesso tempo molto moderna, lo dico sempre di Samuel Stern, ma ci tengo sempre a ricordarlo. Abbiamo dei primi piani delle espressioni del viso davvero fatte molto bene. Abbiamo delle tavole splatter che davvero fanno, come posso dirlo in maniera francese, cagare sotto dalla paura. Alcune davvero danno proprio un fastidio visivo per quanto sono disturbanti. Mi ricordano anche molto la tavola di Lisa Salsi quando è tornata a Ravel. Più o meno c'è questo senso di disturbo, questo body horror che ha per vaso un pochino tutta la trilogia di Fumasoli, che qua prosegue e continua a disturbarci visivamente. Abbiamo delle tavole molto minimal, alternate invece a delle tavole molto dettagliate, che pervadono, diciamo, si percepisce che sarebbero molto più belle se le vedessimo anche a colori. Abbiamo un primo piano di Samuel Stern che vorrei tantissimo rivedere a colori, e così via anche altri primi piani. Quindi mi piacerebbe molto vedere, che ne so, la buttolia Fumasoli, magari la sua trilogia a colori in un cartonato futuro, in un brossurato. Che dir si voglia, sarebbe bello da vedere. Un formato magari diverso, che si discosta da Valerie, che si discosta dal numero uno a colori. Un'altra cosa, un'altra cosa differente, giusto per, appunto, avere questa trilogia in un numero a sé. E ora torniamo sulla storia che non può essere scissa assolutamente dai disegni, perché i jumpscare di questo numero la fanno da padrone. Vediamo una storia con un'introduzione horror nel modo più classico del mondo. Vediamo una famigliola felice, vediamo anche la storia dal punto di vista del bambino, che si ritrova la sua famiglia completamente dilaniata da questo nero, da questa poltiglia che, vischiosa, che a quanto capito, come dicono proprio anche nell'intro di questo numero, coinvolgerà non più un villaggio mormone, amish, che dir si voglia, ma una vera e propria cittadina di provincia. Quindi questo morbo, questa malattia, questo cancro demoniaco si sta diffondendo a macchia d'olio, passatemi questo termine cacofonico, sempre di più in tutto il mondo. E ci porterà, appunto, a quello che sarà il finale di stagione della nuova... di questa stagione di Samuel Stern, e che ci mostrerà Samuel Stern proprio invischiato nell'Apocalisse. È un'avventura in solitaria, dove appunto non vediamo Padre Duncan, non vediamo Angus, vediamo Penny giusto per un cameo, per una telefonata che Samuel Stern fa a Penny perché si ritrova con la sua moto in panne, cosa che cita un pochino anche le varie innumerevoli volte dove Dylan Dogg si trova in panne con il maggiolone, ma qui Samuel Stern non si trova a essere un protagonista che viene catapultato per caso negli eventi, non è per caso in questa cittadina, ma è proprio stato mandato da Gillian dell'Agenzia, o da Gillian, scrivetemi come cazzo si pronuncia, da Gillian dell'Agenzia, che gli ha detto vai in questa cittadina perché sta succedendo qualcosa di losco, non ne siamo sicuri, devi andare ad indagare, non possiamo sprigionare la cavalleria subito, però appunto ci devi dare la certezza che ci sia questa sostanza, questa poltiglia viscosa che si sta diffondendo, e quindi Samuel Stern va appunto in questa cittadina, ma come nei migliori cliché dell'horror, si trova in panne con la moto e gli viene dato un passaggio, però la famigliola che gli dà un passaggio non è la famiglia Manson, anzi è una famigliola felice, è una famigliola allargata, abbiamo appunto Chad, non mi ricordo il nome dell'altro fratello, poi c'è Roger, l'amico hipster, che è molto legato a questa famiglia, come se fosse un figlio adottivo, non so se è il fidanzato di uno dei due ragazzi, comunque è parte di questa famiglia allargata, e una mamma molto molto amorevole, che nella prima inquadratura in cui la vediamo sembra proprio una bambolina, e che riempie lo stomaco di Samuel, come tutte le mamme sanno fare a dismisura. Dopo un piccolo, dopo una piccola scena iniziale, dove appunto i ragazzi vanno al pub del paese e non vengono accolti assolutamente bene, o meglio, la presenza di Samuel non viene accolta assolutamente bene, perché già tutto il paese è indemoniato, si entra subito nel vivo con delle scene super horror, dove vediamo proprio la madre di Chad e di suo fratello a essere proprio posseduta in maniera completa da questi demoni. Questi demoni sono stati rigettati dalla voragine di Abisco, però noi sappiamo, da altri numeri, che questi demoni stanno anche in un certo senso scappando da Legione, perché Legione è sì l'inferno dei demoni, non è l'inferno cristiano degli esseri umani, ma è l'inferno dei demoni, e in Legione è presente l'informe, quello che noi comunemente chiameremmo Satana, il demonio, il Lucifero, il padre di tutti i demoni. Vi ricordo che Lucifero, anche nella mitologia cristiana, era un angelo caduto, e questi demoni stanno scappando dall'informe. E noi abbiamo visto anche in altri numeri che gli angeli hanno un aspetto non proprio angelico, hanno un aspetto molto simile ai demoni, quindi io ho ragione di credere che l'informe non sia altro che un angelo che governa questi demoni. Un angelo caduto o un angelo punto? Secondo me è la seconda opzione, però vedremo. In tutto questo, nell'apocalisse futura che ci sarà, Samuel Sterna si troverà costretto appunto a scegliere da che parte stare, lo abbiamo già visto anche in Abisco, ma qui sarà molto più esplicito, tra gli umani e i demoni, ma anche tra gli umani, i demoni e l'informe. Come abbiamo evinto da questo numero, i demoni stanno scappando dall'informe, i demoni si sentono figli dell'uomo, che questa per padre Duncan è un'enorme bestemmia, e se sarà necessario combatteranno con gli uomini, contro l'informe. E quindi sono proprio curioso di vedere questa apocalisse come andrà a finire. Allo stesso tempo, però, comunque i demoni nella loro possessione, queste a quanto capito, sono tutte possessioni di ritorno, ovvero non sono demoni che nascono dall'ombra interna dell'essere umano, ma come nella classica nostra concezione della possessione demoniaca, sono ritornati dall'inferno, scappando dall'inferno, e si sono impossessati, in questo caso, di un intero paese. Però, sembra che Samuel ci dica alcune cose, ci dica alcune nozioni che io onestamente non avevo compreso appieno nel lungo corso di questi 40 numeri di Samuel Stern, ovvero quando un demone arriva a possedere così tanto un essere umano da cambiargli i connotati in tutti i sensi, cioè quindi vediamo questo demone completamente formato nel corpo della madre di Chad, e poi anche nel fratello di Chad, e poi in Roger, e poi sostanzialmente in tutta questa cittadina che è talmente posseduta da formare un'unica poltiglia nera e avere il potere di riformarsi nei corpi che prima aveva posseduto, scopriamo che quando appunto un demone possiede a questo livello un essere umano, per l'essere umano non c'è più scampo. Questo significa che questo essere umano è morto a tutti gli effetti, quindi che Samuel non lo può esorcizzare, non può salvare la madre di Chad perché ha assunto questa forma così demoniaca, questa cosa io non l'avevo compresa nei numeri scorsi di Samuel Stern, me la sono persa io, lo hanno spiegato adesso in questo numero, perché Samuel lo sa, quando lo sa, questa cosa mi ha generato molte più domande. Così come anche il finale, il finale a tarallucci e vino di questa trilogia è un finale che mi è piaciuto, mi è piaciuto che non ci sia stato l'ennesimo conflitto ma una sorta di di tregua per la battaglia futura appunto tra i demoni e Samuel Stern verso l'informe che ci spiega anche che la cittadina può tornare dalla questa poltiglia nera che abbiamo visto alla forma precedente dei posseduti ma è solo un ricordo è solo un'impronta mnemonica di quello che erano non sono realmente queste persone quindi torno a chiedere quindi anche se tornano ad avere l'aspetto completamente umano in realtà non sono più umani sono demoni gli umani dove sono? la loro anima dove è finita? è stata completamente bruciata dai demoni? è stata sovrastata dai demoni? sono le anime di queste persone? sono in paradiso? ammesso che esiste il paradiso nella mitologia di Samuel Stern quindi questa forma umana che noi abbiamo visto sono solo delle skin dei demoni che ormai posseggono completamente gli umani quindi in futuro ci dovremo aspettare di vedere degli esseri umani che in realtà sono dei demoni completi fatti e finiti non degli incarnati ma dei demoni col volto umano questo è un numero molto molto importante è una pietra miliare per Samuel Stern perché è uno che si perde questo numero si perde queste nozioni e quindi insomma è un numero da non perdere ma che allo stesso tempo getta delle questioni che come se fossero appurate che invece nei numeri precedenti io non non penso di aver letto quindi fatemelo capire voi fatemelo sapere voi qua sotto nei commenti se mi sono perso qualcosa o se ci hanno dato delle informazioni nuove un po' per scontate così come anche il potere di Samuel Samuel è vero che dopo Abisco ha dei nuovi poteri che riesce a entrare molto di più in connessione con l'anima del posseduto al punto da essere molto più perso all'interno della sua coscienza ma qui lo vediamo toccare questa sostanza vischiosa nera mi aspetto anche che sia una sostanza caustica lo vediamo toccarla e farla sparire farla dileguare quindi Samuel Stern ha anche questo potere molto più forte di far sparire quello che potrei definire l'ectoplasma demoniaco insomma non un potere mica da ridere insomma un potere bello livellato per carità questo è un potere nuovo che anche Samuel Stern non sapeva di avere che scopriamo adesso in questo numero e che sicuramente tornerà utile per l'apocalisse però ecco sono state date tante notizie tante nozioni però alcune non capisco perché Samuel le sappia non avevo mai compreso quanto una possessione totale potesse cancellare l'essere umano fatemi sapere voi qui sotto cosa ne pensate di questo numero e di queste nuove informazioni che Fumasoli e la Bags ci hanno dato per l'apocalisse imminente scrivetemi se me le ero perse io in altri numeri ma per me è la prima volta che ne veniamo a conoscenza io vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del mio sproloquio spero di essere stato chiaro anche se non conciso noi ci vediamo venerdì per la recensione di Kalia numero 8 e ci vediamo questa sera alle ore 21 per la live con Across the Spiderverse dove tra l'altro sarà presente anche un pezzo grosso della Bags Comics ovvero Andrea Guglielmino vi aspetto vi aspetto numerosi per chiacchierare insieme su Spider-Man Across the Spiderverse arrivederci